Aumentati negli ultimi tempi e soprattutto durante la pandemia i casi in ambito di neuropsichiatria infantile. Se ne parlerà il convegno dal titolo La complessità clinica nel disturbo dello spettro autistico, dalle evidenze scientifiche alle strategie di intervento, in vista della giornata mondiale della disabilità nella Masteria Sacramento a Palagianello, nella provincia di Taranto. Un evento che vedrà insieme la Facoltà di Medicina, il Dipartimento di Salute Elementale del territorio e il Policlinico di Bari. I casi sono in aumento tanto da far parlare di emergenza per un sistema sanitario che rischia di farsi trovare impreparato. È una problematica importante, la presa in carico non è solo per il piccolo paziente ma la presa in carico è per tutta la famiglia. Dobbiamo cogliere anche come opportunità le risorse del PNRR che vedono impegnato tutti i servizi, impegnati i servizi sanitari, quelle che devono essere anche delle cure di prossimità, setting assistenziali di prossimità, però è una problematica che per alcuni versi rischia di trovare il sistema sanitario nazionale, quindi sistemi sanitari regionali impreparati e quindi da questo punto di vista questo importante convegno ci serve, serve a fare il punto e nello stesso tempo a fare una una roadmap. Secondo me pensare da medico in primo luogo ai pazienti e in particolare ai più piccoli ed ai più fragili è come dire una missione etica, una missione etica che corrisponde a quella dell'ASL ma se mi è consentito corrisponde anche a quella dell'università e della scuola di medicina. Il secondo aspetto è quello del tentativo che non è automatico e non è semplice di creare sempre più una forte interazione tra l'azienda, tra l'ASL di Taranto e la scuola di medicina. Sono un unicum che ha come prospettiva la crescita culturale, ovviamente in ambito medico ma forse non solo, della città di Taranto.